Daniele Fortunato avrà beato lui l'imbarazzo della scelta. Tante le possibili combinazioni, specie quelle offensive, che l'ex difensore della Juventus potrà proporre allo stadio adriatico. Quello che è certo è che non ci sarà lo squalificato Tomasic tra i pali, sostituito da Uffredi. Il modulo è un'incognita perché nelle partite finora disputate i bergamaschi hanno cambiato pelle spesso e volentieri. Rombo o doppio trequartista? Io penso con mezza punta, con due punte quindi dobbiamo essere pronti. Una squadra che sicuramente ha davanti il capocannoniere, per ora ci riesce tutto. In più è una squadra che si difende bene e riparte. E poi Cocco davanti, cinque centri in questo inizio di campionato. Albino Leff è naufragata sabato contro la Samp. Il dubbio principale è legato alla posizione di Laner, meglio a destra e a quello di Girasole, uomo di riferimento della manovra celeste. Dietro in dubbio Daiello, ma dovrebbe esserci alla fine. Malomo, Bergamelli e Regonesi completeranno il pacchetto arretrato. Informa anche se il giocatore guineiano in settimana ha fatto bene e si candida per un posto dal primo minuto. E temai al centro ormai pressoché una certezza. Insomma, alla fine il modulo potrebbe essere un 4-2-3-1. Occhio ai tre al ridosso dell'unica punta, soprattutto perché il Pescara dietro ha mille defezioni. Bergamaschi reduci da due sconfitte consecutive e Alvarco li attende un trittico davvero niente male. Pescara, come detto, poi Padova e Livorno. Il rischio concreto è quello di portare davvero poco a casa. Fortunato sembra non voler fare calcoli. Partenza per Pescara, venerdì pomeriggio.